I carabinieri della stazione di Gansirri hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un iraniano presunto responsabile del reato di maltrattamenti nei confronti della moglie connazionale. L'episodio risale ai giorni scorsi quando una giovane donna straniera, visibilmente scossa e con evidenti lividi al volto e al collo, si era presentata presso la stazione carabinieri di Gansirri per chiedere aiuto, riferendo di essere stata violentemente aggredita dal marito. Subito soccorsa dai militari, la donna è stata poi assistita dai sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportarla al pronto soccorso dell'ospedale Papardo di Messina per le cure sanitarie. Gli immediati accertamenti hanno permesso ai carabinieri di individuare i motivi della lite, verosimilmente riconducibili al rifiuto del marito di accettare la fine della relazione coniugale e di raccogliere le dichiarazioni della vittima, la quale ha affermato di aver subito nel tempo reiterati maltrattamenti. Tali episodi di violenza avrebbero spinto la donna a chiedere la separazione e successivamente a rivolgersi ai carabinieri, soprattutto dopo che al culmine di uno degli ultimi litigi aveva subito un tentativo di strangolamento. Sulla scorta del grave quadro indiziario emesso dalle attività compiute dai carabinieri di Messina a Gansirri, il giudice per le indagini preliminari di Messina, in sede di convalida del fermo, ha adottato l'emissione della misura cautelare e l'uomo è stato ristretto nel carcere di Messina Gazzi.